Si intitola La salute per tutti, movimento, alimentazione sana e corretti stili di vita per il benessere della persona, il percorso promosso per l'anno scolastico 2016-2017 dal Consiglio regionale del Piemonte con gli Stati Generali dello Sport e la Consulta Giovani. L'iniziativa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il patrocinio del CONI Piemonte, si rivolge alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado e stimola una riflessione su stili di vita e salute. Gli elaborati dovranno essere inviati al Consiglio regionale entro lunedì 12 dicembre 2016. I premi tra i 1.000 e i 2.500 euro saranno assegnati alle scuole per l'acquisto di materiali e attrezzature didattico-sportive o per la realizzazione di progetti a carattere sportivo. La cerimonia di premiazione si svolgerà in Consiglio regionale.